Grazie, buonasera! Facilissimo! Sì, però lei non ha fatto il numero senza numero! Senta, vuol partecipare alla coppa? No, la coppa! Oh, e allora forza! Dunque, cadutiamo la voce! Molletta! 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 Patata! Patata! Apro la bocca! Inbuto, inbuto, inbuto! L'oregga! Asciugamano! Asciugamano che copre! E ora... Ingiriamo! Respira! Oh, questa è la conca di rame! Questo è il testo, vado! Non capisco? Ho già accetto svedese! Lo sa fare? Lo faccio, va bene, va bene, va bene! Oh, faccio il numero! Tre! Quattro! Sette! Otto! Uno! Molletta conca! Svedese! Molletta! Patata! E lei? Contento? Vede? Mi ha rovinato tutto! Accento svedese! Grazie! Grazie a tutti.